Questa versione è tratta dall'Urbe Condita, il ventitresimo libro viene intitolata Magone annuncia a Cartagine e la vittoria di Canne. Dunque, a parte questa temporale che abbiamo, e la vediamo perché è introdotta dal DUM, ricordatevi che il DUM vuole sempre l'indicativo presente, qui però è tutto, adesso bisogna vedere, siamo sempre lì in opere storiche di questo genere, siamo noi che dobbiamo decidere se portare in italiano tutto al presente storico o usare sempre comunque il passato remoto, sebbene in latino possa questo tempo cambiare. E poi abbiamo una proposizione relativa che vedete che qui è all'imperfetto, quindi io direi di mettere tutto al passato remoto. Poi abbiamo, inizia qui, qui non c'è nessuna particella subordinante, quindi qui è la proposizione principale, Nuncius, Vittoria, Canes, Cartagine, Bene, Amago, Amicles, Filius, dove si attaccano due participi passati, Missus, che si riferisce sempre a Filius, e a Mago, Magoris, e Retentus. Quindi, mentre queste cose avvenivano, erano condotte, sto mettendo tutto al passato, erano condotte a Roma e in Italia, poi diamo sempre la precedenza al nome proprio. Venerato era arrivato Magone, figlio di Amilcare, Nunzio, della Vittoria, presso Canne. E dove era venuto? Era venuto a Cartagine, era arrivato a Cartagine. Cartagine è complemento di moto a luogo. Vedete che non c'è, nome di città di piccola isola, no? Mandato a fratre, dal fratello, non exipsa ace, non dallo stesso campo di battaglia, ma retentus, trattenuto, aliquo dies, per alcuni giorni, in recipienti civitatibus, nell'accogliere le città dei Bruzzi, le popolazioni dei Bruzzi, che deficievant, che passavano, che erano passate, che passavano evidentemente ai cartaginesi. Alcune regole qui. In recipienti civitatibus abbiamo un gerundivo, nel gerundivo il nome che si trova nello stesso genere, il numero caso del gerundivo, è il complemento oggetto. Gerundivo corrisponde all'infinito in italiano, nel ricevere, nell'accogliere i popoli dei Bruzzi. Deficere si rifà ad una frase più complessa, che era deficere ab aliquo ad aliquem, passare dall'uno all'altro. Qui non c'è ab aliquo ad aliquem, e però è sottinteso che passavano sostanzialmente ai cartaginesi. Aliquo dies è un complemento di moto per luogo, che può anche essere tradotto con l'accusativo semplice, senza il per. Andiamo avanti. Dunque qui abbiamo soltanto un cum come subordinata, quindi la proposizione principale è quello espose le cose, le imprese, compiute in Italia dal fratello. Questa subordinata non è facile da tradurre. Io provo a tradurre letteralmente essendo stato dato il Senato a lui. Cosa vuol dire essendo stato dato il Senato a lui? Letteralmente. Dopo che il Senato gli diede udienza. Questa è la traduzione libera. Però cercate di capire perché si arriva a quella traduzione. Adesso lui sta esponendo, cioè racconta quello che è successo, quello che era stato compiuto dal fratello. Quindi abbiamo una serie di infinitive. Vedete? Conflixisse, Occidisse, Cepisse, Occidisse, E Fugisse, Fugatumaesse, Averi. Quindi bisogna intendere tutto questo come un infinitivo, o una serie di infinitive rette da questo espolit. Quindi questo espone le imprese con più utilità di da fratello che conflixisse, aveva combattuto lui, cioè il fratello, cum sex imperatoribus, con sé comandanti. cuorum di cui quattro fu erano consules, quattro erano stati consuli, due dittatore e maestro dei cavalieri. E poi ancora con sei eserciti consolari, ace, in campo aperto. Occidisse, sempre espone, che aveva ucciso supra de centamilia ostium più di duecentomila nemici, duecentomigliaia di nemici, più che ne aveva cotturati, più di cinquantamila. Es quattor consolibus durcio, ci disse, che aveva ucciso tra quattro dei quattro due consoli, dei quattro consoli due. ex duobus saucium alterum, alterum, toto amisso esercito, vix cunqu in quaginto minibus e fuggisse. Dei due, evidentemente dei due che erano rimasti, uno, ferito, era fuggito, l'altro, toto amisso esercito, perduto tutto l'esercito, un abrativo assoluto, era fuggito di nuovo con appena cinquanta cinquanta uomini. Continua in questa spiegazione magistrum equitum que consularis potestas sit fusum esse fugatum che il maestro dei cavalieri sconfitto fugatum esse era stato messo in fuga. poi sul maestro dei cavalieri si spiega si cerca di chiarirne l'autorità e questa autorità era di grado consolare que potestas evidentemente è un esso relativo perché perché il pronome relativo per essere tale non si deve presentare come un aggettivo in latino quindi se que potestas è assieme a un nome vuol dire che questo è un esso relativo un aggettivo interrogativo oppure potestas è stata assorbita nella proposizione relativa ma fa parte della proposizione precedente io in questo in questo caso direi che è un esso relativo e questa autorità era consolare notate che non sempre qui i i verbi corrispondono alla mia traduzione a volte mi trovo con dei verbi presenti e io lo sto traducendo col passato e perché ho scelto visto che questo è un racconto passato anche nel momento in cui lo sta raccontando Livio è un racconto sul quale io devo adottare in italiano ripeto o il passato remoto o il presente io ho adottato il passato remoto di nuovo che il dittatore Aberi era ritenuto l'unico comandante ma per quale motivo perché Nunquam non si era mai non era mai sceso in acen in campo aperto altrimenti sarebbe stato sconfitto anche lui andiamo avanti qui ritroviamo nuovamente il defecisse che dove non abbiamo lab deficere ab alico ad alico però abbiamo lad ai cartaginesi essere passati ai cartaginesi di nuovo siamo dell'infinitiva retta sempre da quel verbo iniziale quindi che i Bruzzi e gli Apuli parte dei Sanniti e dei Lucani erano passati ai cartaginesi capuam capuam quod caput non campagne modo sed post afflittam rem romanam can nensi pugna italie sit ed è una relativa capuam animali se tradidisse di nuovo un infinito di nuovo l'infinitiva retta da quel verbo che capua prima traduco la si era era passata si era consegnata all'annibale vediamo la relativa che capua caput non campagne modo che era caput punto di riferimento non modo campagne non solo della campagna ma dopo rem roman mat frittam sarebbe dopo la la situazione romana perduta dopo la sconfitta romana ma dopo la sconfitta romana nella battaglia di canne dell'italia allora ripeto che era il punto di riferimento non solo della campagna ma dopo la sconfitta romana nella battaglia di canne dell'italia pro istantis tot victoris verum esse gratis deis immortalibus agi et averi ecco qui continuiamo ad avere un verbo che è legato a quel verbo iniziale però non sono più legati a questi due infiniti quindi per queste e per queste così grandi e numerose vittorie no? tantis et tot così grandi e numerose così grandi e tante no? allora che per queste vittorie così grandi e numerose verum esse era giusto far che cosa? e abbiamo di nuovo delle infinitive se voi andate a cercare sul vocabolario gratis agi et averi vuol dire essere riconoscente e ringraziare agi e averi sono due infiniti presenti passivi quindi essere riconoscenti e ringraziare dei immortali così dei mortali che si trovano nel dativo perché agere gratis regge il dativo ad ad fidem deinde tam letarum rerum e fundi in vestibolo curie iussit annulos aureos qui come vedete sono finite le infinitive inizio una nuova proposizione principale perché abbiamo iussit non più all'infinito e invece abbiamo un'infinitiva reta da iussit no? e fundi in vestibolo curie annulos aureos secondo me questa frase è molto difficile e in tutta onestà non so se l'ho tradotta in maniera adeguata e vi farò vedere qual è il problema dunque ad fidem per diciamo coerenza no? di tante cose felici comandò che gli anelli d'oro fossero riposti nell'entrata della curia qui tantus acerum sfuit notate che qui di nuovo abbiamo un nesso relativo perché assieme al nome e il mucchio e questo mucchio sarebbe et ic cacervus e questo mucchio fu così grande tantus tanto sut abbiamo la consecutiva che quidam essendo consecutiva dobbiamo andare a cercare il verbo al congiuntivo e l'unico verbo al congiuntivo è qui che certi autori mi invece di tradurre col verbo essere io traduco col verbo attestare perché perché io dopo ho un oggettivo supra trasmodius esplevisse io ho bisogno se metto sint verbo essere non riesce a reggere un complemento oggetto un oggettivo io sono che cosa al limite mi viene una parte nominale allora io ho bisogno invece di un verbo che mi rega questa infinitiva altrimenti questa infinitiva non 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 ha verbo leggente quindi così grande che certi autori attestano che ne abbiano riempito supra tres modius più di tre modgi che è un'unità di misura e qui rimane per me il punto interrogativo io provo a tradurre qui c'è sottinteso e l'ho constatato in diverse versioni un sottinteso un anulorum augureorum quindi dimidio vuol dire la metà di anelli d'oro cos'è questo mezzientibus mezzior vuol dire anche valutare potrebbe essere perché noi sappiamo che l'ablativo assoluto ha delle regole ben precisi ma molto spesso questo ablativo assoluto si presenta in forme differenti col verbo vi ricordate col verbo essere il verbo essere sottointeso ci sono dei participi passati che non hanno il soggetto è già tutto compreso nel participio passato io tradurrei letteralmente valutandone la metà la metà di anelli d'oro che poi lo trasformerei in una concessiva sebbene di anelli d'oro se ne valutasse la metà quindi gli autori sembra che abbiano esagerato in realtà la quantità di questi anelli d'oro gettati nell'ingresso della curia era inferiore però non ci metto la mano sul fuoco sulla traduzione di mezzientibus di medium ho finito